La regione di Alexandropolis, nella Grecia nord-orientale, sta fronteggiando nuovi violenti incendi. Centinaia di vigili del fuoco sono al lavoro per domare le fiamme che hanno colpito un'ampia area boschiva. Le autorità hanno anche disposto l'evacuazione di tre piccoli centri minacciati da due fronti del rogo. Al contempo, nella regione di Prodromos, a nord-ovest di Atene, un uomo di 80 anni è morto per avvelenamento, avendo inalato troppo fumo mentre cercava di salvare i propri animali da un altro incendio. In Spagna la situazione preoccupa soprattutto alle isole Canarie, qui da sei giorni brucia un'area boschiva tra le montagne e i campi dell'isola di Tenerife. Le autorità assicurano che il peggio è passato, ma spiegano che nonostante gli sforzi, l'incendio non è ancora sotto controllo. Secondo quanto riferito dalla polizia spagnola, il rogo sarebbe stato appiccato volontariamente.